Se ce l'avete... E poi lascio trattare perché gli dici scherzo scherzo, sto scherzando, paurissima, va bene, allora abbiamo scelto una canzone che può racchiudere quello che è stato il giorno di Ferragosto, quello che è stato scanzanoionico per me o per me, e speriamo anche per tutti voi, quindi nella speranza di esserci ritagliati un posticino nel vostro cuore per questa giornata risulta intensamente che ancora non è finita, abbiamo scelto una bella canzone. La speranza è quella di cantarla tutti assieme per un brano famosissimo, ovvero è meraviglioso, ho capito il momento è meravigliosa la canzone, il momento è meravigliosa la canzone, ho capito, va bene, va bene che è la versione del tassellone, quindi se ci siamo ragazzi io direi che possiamo dare via alle danze, mi raccomando il palloncino non c'è anche quando tu lo dirai. Sì, sì, è verso metà canzone, diamo il via. Quando vuoi fare questo? Sì, sì. Basso. Si canta, eh ragazzi? Basso. È vero, credetemi è caduto, di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata poi, di fare un tuffo giù. Qualcuno male si cont �, forse un angelo, vestito dalla passante, vi portò via dicendomi così. La voce, la voce, la voce. 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 La voce, la voce. La voce, la voce. La voce, la voce.